davanti al suo pubblico qui al paralido di Valdagni intanto siamo partiti con Aleverone a largo parte Luzzi, gol! la mette, niente da fare per Guilhem Trabal si, bel gol di Luzzi a fil di palo lì, vantra parte cerca la botta, attenzione! Luis Cherido Luis Cherido ha la botta a destra di Trabal probabilmente coperto tra l'altro due gol che sono arrivati su un rigore, su un tiro da lontano ancora lì! proprio lui! l'uomo ha più atteso! Massimo! sopra via centrali finisce giù il Tata tutto regolare, nulla di fatto Juan Faridza, attenzione Cherido qui buona risposta però poi troppo, tutto troppo facile per per Luis Cherido c'è stato un attimo di confusione nella difesa del Valdagni ha sulle stecche e la ribatte Balunza, salta Gimenez poi prova prova il numero il Luzzi per un niente dall'altra parte Tocci de Oro Tocci de Oro grandissimo il Tocci sotto le gambe Marche Paglia resta ancora Centeno carica la botta Centeno mamma mia missile la bomba dalla distanza di Centeno bellissimo missile come dire Dario Gimenez contro Valentin Grimalta Gli è la paralela cercato il colpo basso di che adesso ragiona deve stanare un po' Valdagno la botta proprio di Juan Faridza Armudo de Galicia che realizza questa tocco con il patino qui risposta gran risposta di Trabal su Malagoli riparte Centeno azione dall'altra parte c'è il gol c'è il gol Dario Gimenez la sua stecca Verona carica la botta Ale Verona bellissimo il gol della distanza di Verona è coperto lì Trabal pallina ancora nel sette bravo bravo Ale tutto pronto può partire Gimenez perde 5 da giocare momento chiave la mette e c'è il gol di Massimo Tata Renni bellissimo lì sopra al sette mamma che pallina André Centeno prova la botta prova la botta ma trova Grimalt mamma che partita amici Valdagno Lodi finisce 5-5 Leo di qualcosa tu sono andato grazie a tutti grazie a tutti